Sono felice, innanzitutto, l'ho detto pure prima, mi sento anche onorato, penso che qua dentro io non posso insegnare niente a nessuno, penso che posso parlare di qualcosa a unico. Scoccio, eh, che stai eseguito, sottaglio, grazie. Vai, guarda, 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 guarda. L'ascoltano tutti. No, posso, di no, ma guarda, 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 guarda. Volevo dire che tu hai detto che il tuo più grande l'impianto è non aver studiato perché, no, non facerà un po'. Perché? Mi sono filmato altri mille terapia. No, 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 no. Non ti so se ne... Non punta. Non sono le spalle, eh? Non avevo un po' di raggi di piante, non l'avrei studiato perché, senti, non l'avendo studiato, non riesce a stimere finamente del stesso. Il napoletano è una ripoa pesante, se io ti dico l'amore, se devi in amore, mi chiedere da questo, da lui, è più forte, perché mi rimane per aver riferito, quindi ci abbiamo fati. non ce l'hanno tutti questa cosa quindi perciò forse a volte hanno laura di vivere perché veniamo dalla periferia perché a me non c'è più da lato niente io sono andato a lavoro a 9 anni semplicemente perché io mi realizzavo quindi noi ci abbiamo a volte si pensano che venire dalla periferia è un punto di svantaggio io non ce l'ho messo di svantaggio anzi è tutto un vantaggio perché noi ce l'abbiamo qua, capito, negli occhi la fame e noi ce l'hanno detto in tutto il mondo ci sta lato buono, lato lattino Napoli non è solo lato lattino Napoli avevano sempre cose belle ma esiste il casco a Napoli? i ragazzi desti stupidi quando poi io vedevo che le persone cioè i rapper a Napoli non indossavano l'orologio ma lo indossavano da un'altra parte questo a me mi portava a rabbia perché se controllavo poi perché poi mi sono andato a informare perché io li dico sempre vuole parlare di Napoli non so, io li dico e dicevo guarda ma lo sai che questo non succede solo a Napoli cioè tu parli come se questa cosa succedesse ma rimane così c'è qualcosa che tu non avresti proprio voluto fare da inizio a oggi e se c'è qualcosa che cambieresti nel tuo passato? no, niente forse lo so forse gli studi adesso ci arriviamo pure a questo no, semplicemente per per comunicare per comunicare meglio le persone per spiegare i miei pensieri quindi all'inizio è stato difficile ma lo so che l'abbiamo interviste avevo parlato di parlare perché ero un ragazzo aggionale sono ancora un ragazzo aggionale ero l'era proprio aggionale però personalmente io una ragazza di Piscinola quando sento il pedazzo mi fai spagliare le ansie perché se tu deve rimanere con i piedi per te mi fai capito che questo percorso in realtà si può affrontare perché non è così tanta tanta ansia e dobbiamo lasciare la pressione la dole altrimenti non riusciamo a fare indietro grazie grazie